Allora ragazzi come ragazzi bentornati in questo nuovo video di minecraft ita Ragazzi oggi faremo la sfida delle griffing challenge Direttamente sulle lucky block su fear games Con tutti quanti questi bomber qui quindi col server Perché siamo veramente in pochi Oggi ovviamente è il giorno di festa Registo il video il giorno stesso perché Datemi pausa Natalia non posso sempre registrare Comunque vi dovete lasciare un bel ecco e un bel commento Oggi cercheremo con tutti quanti questi bomber Di griffare un'isola intera Cioè la mia raccogliendo sia i miei oggetti che i loro Quindi cercheremo di fare spadere un'isola gigantesca Vedremo se la faremo a fare tutto quanto questo casino Mi dovete lasciare comunque un bel ecco un bel commento Comunicata alla lobby e gli altri Entriamo subito in partita Ovviamente mi dispiace se qualcuno rimarrà fuori dalla partita Veramente tantissimo Cioè come sempre Blankit Sto ancora utilizzando le texture nuove Mi sto veramente abituando E sono assolutamente bellissimi Venti ringrazio tutti quanti bomber che sono in partita Quindi vi saluto e saluto anche tutti quanti ragazzi Che sono venuti durante la lobby Mentre aspettavano me Davvero Comunque parte ora il tempo Quindi startiamolo E dobbiamo raccogliere tutti quanti Gli item più esplosivi E ho già comunicato agli altri ragazzi Ok già qua la TNT potrebbe essere Un gran vantaggio Quindi cerchiamo di tenerla Invece no come sempre esplode E mi parte così a sfiga Però almeno ci togliamo l'alberale dalle scatole Perché prenderà fuoco Il ragno del fuoco mi potrebbe droppare Tecnicamente una fireball Però simpatico com'è Lanciamolo sul terrorista Esplodi Non è morto Non è morto Non è morto questo ragnetto Comunque abbiamo fatto startare il tempo questa volta Dai ragno per favore Non iniziare Sto trovando solo morte e devastazione Comunque raga La griffin challenge scorsa con Eren Ovviamente è andata bene Perché a parte che c'era Eren Quindi il mastro griffer Poi comunque era una sfida che vi è piaciuta veramente un sacco Quindi vorrei comunque riproporvela più avanti in futuro Magari con Tiar Quando tornerà in Irlanda e tutto quanto il resto Però ragno No 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 Mi serve un enderpearl Ok Morto lo stesso Comunque cerchiamo Ok il lachibo Ok il lachibo ci dà Possono morire Oh signori Dopo anni Sono riuscito a distruggere questo bellissimo ragno Comunque cerchiamo sempre di spaccare tutti quanti lachiblock in superficie Perché è una cosa che balziamo ogni volta Poi ci soffermiamo solo da un lato Invece secondo me dovremmo Ok Cani fate il vostro giurolavoro Ok terrorista Terrorista ovviamente non si può raccogliere Però è tanta tanta roba Tanti voi mi dicono di Prendere il distracto E per esempio di Di sistemarlo con l'envil Ma ragazzi Non si può Vi svelo questo piccolo trucchetto Basta Cani di merda Servite a qualcosa Su Lavorate Fate i bravi Madonna mia Madonna mia I cani a cosa servono Madonna Che non muoiono Ok così calma Allora Distruggiamo qua intanto Altri pigmen Rob Black hole Top raga Il black hole Credo che sia l'item più devastante Di questo Di questa serie Di questi lucky block Perché Nessun lucky block Può dropparci una cosa più devastante Per griffare Dei Dei black hole E io ve lo giuro Ne prenderei infinite Davvero Comunque andiamo via Perché qui c'è lo squid Ok Questo Questo coso qua Non mi serve però 8 Di Fireball E tanta tanta roba Soprattutto perché Ci serviva dopo per griffare Un distracto Top Piano piano No legno però mi serviva Sapete per cosa Per farmi una chest Perché almeno Posso lasciare Tutti quanti gli item In giro Fa niente Dai comunque Continuiamo qua a raccogliere Un botto di roba Vabbè dicevo che comunque Ogni tanto Cani Agite Ogni tanto comunque ci sta a portare La griffa in challenge Io le porto oggi Un altro distracto Top Ve le porto oggi Perché ovviamente Essendo questi giorni un po' di Natale Me li sto prendendo con molta camera A registrare le cose Oggi faccio la pixemon di domani La vanilla di giovedì E se riesco Butto via queste cose Ovviamente se riesco Arco spettrale Queste cose qui Ce le mettiamo un attimo Via Qua Per favore Così ci sistemiamo un attimino L'inventario Dicevo Facciamo così Ci droppiamo là Ok così Non moriamo E cosa dicevo Che comunque sto facendo cose Molto tranquille In questi giorni Come avete dato Però già domani voglio Oddio Oggi stasera voglio fare La vanilla di giovedì Che vi spoiler un attimino Sarà la farm Che veramente Tutti quanti voi Mi state chiedendo Quindi Da giovedì Parte l'accusazione Di questa farm anomala E in più In questi giorni Sono usciti La vanilla di ieri E una bedwars Di Il 24 Che molti di voi Si sono persi Ovviamente Perché è tra feste Varie E tutto quant'altro È normale Quindi qua sotto In descrizione Vi lascio anche quella bedwars Ragazzi Mi raccomando Qua a tempo Come si è ammessi 3.45 Neanche tanto Quindi ti prego Tenetti Droppati 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 Ok top Si è droppata Quanti pezzi 3 Piuttosto che niente Van bene anche questi 3 pezzettini E queste freccette qua Ne ce le teniamo Spada del fuoco inutile Dobbiamo spaccare Più lucky block possibili Più ne spacchiamo Meglio è ragazzi Tiriamo fuori piccoli Perché magari Si spaccano un pelo più in fretta Quindi Frecce di merda Qua prendiamo fuoco Tutto quanto Allora Continuiamo qua a spaccare Lucky block Quindi nulla raga Comunque I griffin challenge Ogni tanto le porterò Magari c'è quel periodo Che le porto Più che volentieri Quel periodo in cui Magari non mi va di portarle Quindi non le porto E niente In questo periodo qua Volevo portarvi anche Due video al giorno Perché so che siete a casa Da squadra Tutto quanto Però Sono un po' frenato Dal fatto che Non so cosa portare Come secondo video Perché già faccio fatica Magari a pensare Cosa fare per un video al giorno Un scettro dei blaze top Quindi come secondo video Sono un attimino frenato Fatemi sapere voi Magari che No perché lo sto uccidendo Fatemi sapere voi Magari cosa ne pensate Che minigame vorreste E tutte quante cose Che vi manca Veramente un sacco Per esempio L'altra volta mi avevate chiesto Di portare Un gravity E ve l'ho portato Con tech E ti arma Tantissimo tempo fa Mi vorrebbe anche Di portare Altre minigame Tipo le egg wars Io non conto le bad Perché le bad wars Magari giocando un po' più Sul titolo Posso portare Più che volentieri Però per il resto Le altre cose Sono un po' più difficilotte Da portare Lanciamo giù tanto Ste cose Ok Le enderper le buttiamo Perché tanto dopo Non ci serviranno E via Vabbè a bottino Comunque non siamo messi Tanto male Anche se fosse stato Un griffin normale Ce la saremmo cavata Con due destructo E un black hole Questa chest qui No Solo l'armatura Che mi prendo Più che volentieri E mi droppo Via tutte quante Queste robe qua Inutili Sento intanto Rumore di gente Che sta raccogliendo roba Mi piace un sacco Quando siete collaborativi Collaborativi Si dice Che comunque collaborate Durante questi video Perché vi vedo belli carichi Che cercate di dare il meglio di voi E queste cose Quindi mi fa un sacco piacere Anche comunicarvelo E io adesso morirò Come uno stupido Però fa niente Allora Continuiamo comunque A raccogliere le robe Dicevo Essendo un attimino frenato Vorrei sapere da parte vostra Magari Che altro video vi manca Che vorreste vedere Intanto lì c'è un bomber C'è un bomber E quindi nulla Fatemi sapere qua sotto Nei commenti Perché Mi farebbe un sacco piacere Sapere la vostra Su queste cose Sapete che Vi interpello Praticamente sempre Per quanto riguarda queste cose Top che Esploso lo squid E non sono Non ho preso neanche danno Però questa rena Tela qua mi sta dando Un sacco fastidio Sono passati 6 minuti E 15 in cui Io non ho mai smesso Di parlare Raga Parliamo un attimino Comunque Prendiamo un po' di aria Non sto trovando tantissimo Però Nell'ultimo minuto Però le frecce Ogni volta che lo chiamo Ogni volta che dico Ultimamente Non sto trovando tantissimo Trovo roba È devastante Bluttiamo via questi blocchi Allora abbiamo 3 distracto E Un Black hole Potremmo fare una combo Pazzesca raga Sinceramente Eh però qua Ok Un solco Che vi si poteva bellamente Aprire sotto l'albero Ok TNT TNT allontaniamoci Non facciamo rivedere Che siamo qua Perché potrebbe dropparcela E invece no Però Non è esposto a fianco all'albero Quindi non può prendere fuoco Che sfiga Poteva comunque dropparcela Questo giochino qua Allora Continuiamo a cercare Lucky block Perché mancano solamente 3 minuti E poi Saremo All'esplosione Quella finale Devastante Con la speranza Che tutti quanti gli altri Abbiano capito Le mie intenzioni Però tecnicamente L'ho già fatto In video del genere Se non erro Quindi Magari fatelo sapere Da parte vostra Perché Ora come ora Non mi ricordo molto Né Però io ricordo Di averlo fatto E di aver fatto Anche un bel solco Se non sbaglio Comunque Me l'ho P anche trovata Arco spettrale Qua Arco del trasporto Sto spaccando Più la keyblock Del solito anche ora Mi hanno lanciato Un distracto Ma come? No È la Meteora Tranquillo Bomber È la meteora Comunque Continuiamo qua A spaccare Ah sì L'ultima volta Che avevo fatto La griffin challenge Con i bomber Mi ricordo che avevo trovato Uno Che era un hater Che era venuto A rompermi le palle Per cercare di uccidermi Me lo ricordo benissimo Questa roba qua Me la ricordo un sacco bene Comunque Quanto manca? Due minuti mancano Vanno più che bene Qua chest Le chest Non mi stanno più dando Nessuna soddisfazione Perché di solito Prima Nelle chest Trovavo sempre E dico sempre Per esempio TNT O queste robe qua Invece ora Non più Non più E quindi sbatti Comunque cerchiamo ancora Qua di fare Qualche debasso Di prendere qualcosina Sto laggando Ok Meno male che no Quanto manca? Uno E Trenta Ok Molto bene Continuiamo qua Comunque a spaccare altri lucky block E quindi nulla raga Volevo portarvi un video di rainbow Non dico In questi giorni Però avevo questa voglia Perché Di mio Ci sto giocando Veramente troppo Sto notando che Oh Bomb antimateria Peccato che non sia Un black hole Che potevo raccogliere Lo avrei trovato Più che volentieri Dicevo L'avrei portato più che volentieri Vi diremo Solo che Il primo che portai Era andato veramente Un sacco bene L'altro Non tanto Quindi Ero un po' più restio A riportarlo Fatemi comunque sapere Se lo vorresti Poi gli altri Ultimamente stanno portando Fortnite E Anch'io sono tentato di portarlo Però non sono per niente Forte Va bene Non sono per niente forte A Fortnite Quindi Non l'ho portato niente E Fatevi sapere se lo vorreste Anche sul mio canale Oltre che su quello degli altri Perché tanto noi Magari ogni tanto la sera Ci troviamo per giocarci E ci divertiamo Oltre che a sclerare Manca poco Mancano 30 secondi Quindi Vediamo un attimino Quanta roba riesco a raccogliere Perché poi gli altri Avranno raccolto un sacco di roba In più di me Ne sono Assolutamente sicuro Il shot of the blaze Ci potrebbe salvare la vita Perché sono veramente un sacco utili Il shot of the blaze Però Quanto manca? 20 secondi 20 secondi 20 secondi 20 secondi Uh creeper Creeper Non sto più trovando Un martello di Thor Se vi ricordate Il martello di Thor Prima lo trovavo veramente Un sacco Questo ci rallenterà Negli ultimi secondi Che sbatti Continuiamo 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 Quanto manca? 10 secondi 10 secondi 10 secondi 5 4 3 2 Ultimo lucky block E questo 1 Fine Lucky bo con frecce Fine Ok Tempo finito Ora Metto via tutte quante le cose Che ho trovato Vado a raccogliere tutte quante le cose Degli altri E vi farò vedere Il bottino finale Ora in creativa Andrò a raccogliere il bottino Tutti quanti gli altri Vediamo per esempio Questo ender 2059 Cosa ho trovato Ok Il super pot Non mi interessa Però Mi servono solo le cose Griffing E questo martello di Thor È veramente Un sacco utile Però lì troppo via Tutte quante le cose Inutili Buon Natale Mark Grazie Nova Sei un bomber Vediamo Abbiamo Un sacco di roba Ragazzi Vedo eh Molto bene Molto bene Molto bene Grande bomber Hai fatto un lavoro Devastante Ciao Alex Si Calma ragazzi Qua stiamo aprendo Un devasto Sbaglio Non mi ci stanno le robe Ragazzi Non mi ci stanno le cose Ok mi serve una double chest In base Wicto ci ha fatto una casettina Ok Anche questo bomber qui ci ha fatto Blanket Come sempre Geniale Ok Questo è il bottino Finale Ragazzi Ora però dovrò fare una platform In cielo E Non mi riempiete di cose inutili Ender Dopo aver tolto tutti quanti i blocchi Finalmente ci siamo Questa è la chest Io direi Partiamo Come prima cosa Dalle uova di creeper Ok Ci servivano le ender pearl Le uova di creeper sono qua E dei martellitor Quindi Dovremmo essere un sacco carichi Per questa roba Ok Quindi Ora Startiamo nel mettere in giro Dei creeper Quindi Più ne mettiamo in giro Meglio è Ragazzi cosa sta Perché la gente piazza i teneti al posto mio Ok Quindi Ok Continuiamo a fare questo Il giro qua di creeper Ok Ok Messi creeper Ora martellitor A tutti quanti Perché Dobbiamo ultra caricarli Quindi Ok No Non si caricano Non si caricano Perché non fa più il tuono No sto morendo Shift Tesso destro Non va Non si tuonano più raga Ok Caricati Quanti ne mancano poi Si qua li abbiamo caricati Ok Esplodiamo Ora è il momento degli archi E qua ne abbiamo veramente Tantissimi E li spareremo tutti quanti all'alto Perché Voglio vedere un attimino Il devasto Che riusciremo a fare con gli archi Che sono troppi Quanti archi abbiamo Oddio mio E qua dobbiamo lanciare Tutti quanti gli archi che abbiamo Fino a cercare di fare il solco più devastante No Mi sto Mamma Quanta roba abbiamo da lanciare ragazzi Quanta roba che abbiamo da lanciare Con gli archi abbiamo finito Ora abbiamo 46 TNT lanciabili Che però dobbiamo scendere a lanciare Quindi a sto punto Prendiamone tutte quante E in più anche Allora Abbiamo Un sacco di sciatri di blaze Quindi a questo punto Prima Lanciamo gli sciatri di blaze Ok ho fatto una caccata No no Sto per morire con le TNT No Mi rimasto tutto quanto dentro Ok Non capisco questa cosa Che mi rimanga L'inventario è sempre rimasto Infatti No ok La mia preoccupazione era Che perdesse l'inventario Ma comunque Ci rimane Quindi a questo punto Possiamo lanciare Di quante gli sciatri di blaze Che vogliamo Però non capisco Questa cosa Che cambino Cambino direzione Nelle mani Vabbè Qua Questa isola Sta diventando Un devasto Aiuto Quanti cacchio sono Quanti blaze abbiamo Su questa isola La situazione Mi è sfuggita di mano Secondo me Quei blaze Non so cosa me lo faccia pensare Ve lo giuro Oh mio dio Ragazzi Mi sono un attimino Salvato da quel devasto Non so solo che ora Abbiamo ancora 45 TNT lanciabili Direi Ne lanciamo 45 Però non so Precontarle Quindi Ehm Diciamoci un pillar Prima dall'alto It's time to lanciare Ok Da qua in poi Si può lanciare bene Tutto quanto Molto bene Ok Va che belli Ok Qua Ora Piazziamo un sacco Di TNT In questa zona Vediamo che non le faccio Né esplodere gli altri No Perché Cosa è esploso Chi perché Che per come Chi l'ha fatto esplodere Tutte Non ce la si farà mai Ragazzi Fare tutto sto griff Uh anche questi Sono lanciabili Non più Perché le hanno Rinominate Questo È stato Il devasto Che siamo riusciti a fare Dopo tutti quanti Gli item Che abbiamo avuto Dai bomber E siamo arrivati Al sotto Del Cubo Incredibile Guardate qua Che c'è il buco Mamma mia Però questo buco qua Era stato fatto No ci mancano ancora Più o meno Una decina di blocchi Però secondo me Abbiamo fatto il solco Più grande Che si poteva creare Abbiamo fatto qualcosa Di assurdo Ragazzi Non credo Abbiamo fatto un griff Del genere Mai Quindi Ragazzi Di quanti bomber Che vedo Qua nel tab Che stanno uccidendo Tra di loro Fantastici davvero Vi ringrazio di cuore ragazzi Vi tasciano un bel like Come commento Scrivetevi al canale Se avete fatto Fatemi sapere Se avete mai fatto Un griff del genere Magari organizzatevi Tra i vostri amici Per farlo in partita Ragazzi Da varche è tutto Bella Ciao Grazie a tutti.